Ciao ragazzi, oggi prepariamo l'acqua di banana, perché dopo l'acqua normale, qualcuno mi ha chiesto di fare l'acqua senza ucchi e senza dolce. Questa è la soluzione, l'importante è che nel giorno, dell'avvenzione prima, mettiamo in riferimento alcune banane e dopo puoi fare l'acqua di acqua, ogni volta che vuoi. Ora vediamo l'intro e dopo la ricetta. Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Spettacolare, molto buono, soft, creamy e anche dentro ho un po' di cioccolato e un po' di granola con il cocco, con il cocco, spettacolare. Ok ragazzi, ricordate di iscrivervi al canale, di lasciare un like e di guardare gli altri video. Bye bye! Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima